Abbiamo anche delle opportunità significative, abbiamo un paese paradossale sotto certi versi, tanti giovani competenti che sono a disposizione, imprese che cercano a volte lavoro e non lo trovano. Campania ha messo in piedi un sistema che si chiama Click Lavoro Campania, nel quale appunto si incrocia il mondo del lavoro con quello dei giovani che hanno bisogno di opportunità. E dunque in un sistema come questo lo spazio anche all'intermediazione pubblica e privata, un moderno modo di vedere i sistemi del lavoro, i sistemi dei servizi per il lavoro, rappresenta l'opportunità vera sulla quale noi ci giochiamo una partita importante. L'Italia fa fatica a leggersi come un unico paese dove bisogna utilizzare le risorse lì dove sono. E nel caso specifico i giovani, quelli che adesso sono all'università, agli istituti tecnici, sono soprattutto nell'area di Napoli. Non sarà così per sempre. Nel 2000 non sono nati abbastanza giovani nel nostro territorio e non si sono insediati abbastanza stranieri che hanno fatto figli e che crescono figli in Italia. Quindi è una finestra importante e decisiva che va utilizzata adesso. Io mi auguro che iniziative come questa e il lavoro che sta facendo Enzo Mattina portino sempre più l'attenzione delle imprese verso questo territorio perché abbiamo bisogno assolutamente di opportunità di lavoro qui anche perché spostarsi in Italia è diventato carissimo. Grazie a tutti.